Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono Cina Biondo e raga la notizia sicuramente più importante di questo Caldheim Fest o Lunch Party è il mobile, che poi tra l'altro hanno tenuto un po' in sordina perché durante lo show principale non ne hanno parlato ne hanno parlato dopo quando c'era il weekend, il weekly MTG con tre partner della Wizards e penso che la ragazza fosse dell'IT e hanno presentato mobile, la versione mobile di Magic Arena questa è una grandissima novità perché era da un po' che non se ne parlava ma soprattutto non avevano più dato una data perché avevano detto fine 2020 ma adesso siamo già nel 2021 quindi abbiamo una data 28 gennaio 2021 avremo finalmente la versione mobile di Magic the Gathering Arena cosa saranno? innanzitutto è un Early Access quindi non è una versione per tutti, non è un Open Beta, è proprio un Early Access quindi si potrà accedere, avere accesso a questo Early Access solo se disposti di un dispositivo Android sicuramente le richieste che ci vogliono sono molto alte perché 4 giga di RAM un po' pochi pochi telefoni ce l'hanno Snapdragon 845 Kirin 970 Exynos 9810 Adesso ci vuole almeno 6.0 di Android Ai 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 Va bene, guardiamo un po' di devices supportati Ci sono le Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 L'A71 Ai ai ai, il mio telefono aziendale è un A7 Quindi penso che non vada Red Mill P30 Pro P20 Pro Con Plus Non così tanto quelli della Rogue E chiaramente entro la fine dell'anno come hanno detto nel loro annuncio Ci sarà anche la versione iOS per chi è amante della mela Bene Parliamo del Dello Show Quello che c'è stato Show sicuramente ci sono un po' È stato figo il tema metal Anche se non sono un amante del metal Però è stato figo avere un tema appropriato Anche perché hanno provato tanto con un po' di altri tipi musicali Però questo penso che sia il genere più ascoltato tra i giocatori di Magic Poi Mi è piaciuto un po' l'intermezzo Un po' sviluppatori Cantanti eccetera Era un po' cringe A volte Jimmy Wong era un po' cringe Però Vabbè Probabilmente volevano farla così Mi è piaciuto Come hanno spoilerato il mondo Che praticamente è quello della mitologia norrena Come ci sono i personaggi Della mitologia norrena In Chiave Magic Infatti c'è Odino C'è Loki Carino Molto Molto figo Molto molto figo Soprattutto Mi è piaciuto anche Il fatto che C'erano qualche testimonianza Di qualche Gruppo metal Qualche cantante Qualcuno di cui facesse parte Di qualche gruppo metal Mi è piaciuto Però Era un po' Ragazzi Era un po' Una cringiata Secondo me Come per Zendikar Potevano Vederla un Pelo meglio Dai diciamo Beh Passiamo Alle carte Rivelate Allora Abbiamo sicuramente come prima cosa Le terre neve Sono state confermate E ci sarà questa Art Dal broccolo Nel ghiaccio Un broccolo Come diceva Un mio Uno in chat Da me Su Twitch Sembra un broccolo Surgelato Carino Carino Ma non mi piace Troppo L'effetto Sbiadito Però io Un po' vecchio All'antica Ma L'idea Dello sbiadito Probabilmente Ci sta Ma Non è bellissimo Poi magari dal divo Mi ricrederò Sono le Dual land Neve Cosa Una novità assoluta E soprattutto Sono comuni Quindi Entrano in pauper E ci sono tante carte Che fanno effetti Neve in pauper Poi abbiamo Nico Aris Che è un planeswalker Molto particolare Perché entra con X Shard tokens Pari Al costo Che abbiamo Paragato di X Non è Un planeswalker Che gioca da solo In quanto Vabbè Potrebbe essere meglio Fa rimozione O fa un altro Shard token Oppure Una creatura Non può essere bloccata E Quando questa creatura Fa danno A un avversario Ci ritorna in mano Non lo so Carino Con l'effetto Delle carte modali Però Un po' così così L'effetto più uno Poi Valky Quando entra in campo Di battaglia Ogni avversario Rivela Alla sua mano E Tutte le carte esiliate Tutte le carte esiliate Noi le possiamo giocare Con il mana Che vogliamo Basta che sia Lo stesso convertito Con più due Esiliamo due carte Dal primario Dell'avversario Meno tre Esiliamo un artefatto O una creatura Meno otto Esiliamo tutte le carte Dal cimitero Dell'avversario E facciamo tre Mana rossi Potrebbe essere Di Per un Prince Walker A costo set Potenziale Può essere Di Ricordatevi Che la parte davanti È quella Col triangolino nero Inga Fa niente Questo Nano Non è nulla Di che Costa due Un due due Fa lord A chi altro È equipaggiato Però questo Old grown troll È molto forte Perché un 4-4 Costa tre Contra Ample Quindi è già Forte Inoltre Quando muore Possiamo incantare Una foresta E fa di fare O il doppio del mano Oppure paghiamo uno La sacrifichiamo Mettiamo in campo Un 4-4 Troll Contra Ample Tappato Assai Forte Questa è una bellissima carta Questo cangiante Masked Vandal È una bellissima carta Da side Questo Elvish Warmaster È una carta che già esisteva Però Più forte Perché ha un effetto Attivo Odino Sembrava una carta Super figa Ma in realtà È una carta un po' Normale Non è nulla di che Il Raven 2-3 Dice praticamente Quando attacca A un avversario Ci ritorna in mano E facciamo scray 2 Niente di che Poi Arlund God Prende più uno Più uno Per ogni carta In mano E per ogni Fortold In esilio E poi all'inizio Del nostro Endstep Noi scelgiamo Un tribale Prendiamo le prime due carte Del mazzo Se sono di quel tribale Le prendiamo in mano Nulla di che Però è figo Il disegno È figo anche il fatto Che Odino Praticamente è Odino Vedete che c'ha un occhio solo E diventa un corvo Quindi Rimanda molto La mitologia Norrena Binding of the Old Gods Invece è Fortissima È un aspect conqueror Stat proprio piccolo Fa rimozione Distrugio un permanente Non terra bersaglio Poi cerca una Foresta La mettiamo in campo tappato Vanno bene anche le terre Da oppie E poi le creature che controlliamo Guadagnano un death Touch fino alla fine del turno Sicuramente è una bomba Da limited Poi addirittura Uncommon Mica brutta Questa Frostbite È due danni A creatura Prince Walker Se Abbiamo tre o più Permanenti neve Ne fa tre Però peccato Non li fa il giocatore Mi aspettavo una carta Che costasse due Facesse danno anche al giocatore Sinceramente Poi Varragoth Bloody Sire Questo rogue È particolarissimo Perché costa tre Due tre Con death touch E boost Boost Lo si può fare Quando vogliamo Però in questo caso Si può attivare Solo quando Questa è la creatura Attaccata in questo turno E una volta per turno Cosa fa? Scegliamo una carta Nostro Grimorio Rimischiamo un Grimorio E questa carta La mettiamo in cima Fa tutore vampirico Che è una carta Storicamente fortissima Questo rogue Mi spaventa un po' È molto forte E poi è di una tribe Che è già forte di suo Aiuto Tirulfo Non è niente di che Arlong Epiphany È praticamente un timewalk In sorcery Perché La wizard È imparato a fare In stregonerie Non in instant Però c'ha Fortel Ci sta Un bellissimo dino dietro Eccolo qua Il Vorlinex Mostruoso Rider Ma A differenza c'è la versione Pirexiana Ed era già stata Spoilerata Behold the universe Istantaneo Questo 4 Eh Questa è carina Cioè alla fine si è sempre giocato Una carta del genere No? Sky 2 Per Sky 2 Però c'ha Fortel Fortel Dice che L'abilità di Fortel Si deve fare nel nostro turno Però Quando La giriamo Mantiene la velocità Della carta di base Quindi in questo caso Con istantaneo Lo facciamo come instant Facciamo un po' di turni Chiaramente Auguri Raven 3 3 Costo 4 Oppure lo Fortelliamo Con 2 più 2 Volare Questo ci sta Glimpse of the cosmos Guardiamo le prime tre carte Del nostro Grimorio Mettiamo Mettiamo una carta In mano E il resto In fondo La stessa ordine Finchè controlliamo Un gigante Ah vabbè Mettiamo nel cimitero Vabbè Ok Reflections Of litriara Sarà un clone Esatto È stata Molto molto di livello Mi piace la carta Scritta Empirexiano Questa è una carta Bellissima Peccato che non la trovo Una carta così tanto forte E andiamo avanti Dai Come al solito Ci sarà una The list Quindi Come con Zendikar Perché Paper Boomer Come me Faranno un set Un set di buste apposta Si chiama Set Boosters Quel box Penso che costa 10 euro in più Rispetto al box normale Ma in più Ci metteranno dentro Le Delle carte vecchie Con un bollino Vedete in basso A sinistra Il simbolo Della wizard Di magic A sto giro Tra La The list Butteranno dentro Dark deaths Cold storage Ma soprattutto Cavern of souls Wow Cavern of souls È una grande Grande messa Poi in più Ho visto C'è anche dentro Corvold Un sacco di altre carte Per commander Quindi Ho provato Ho provato Soprattutto per Cavern of souls Tutta la lista completa La potrete vedere Sicuramente In descrizione Vi metto tutti i link Di tutto Bene Spero Che ci spaccheremo Di divertimento Peccato che non ci sarà Una pre-release Perché Wizards Giustamente Non vuole Non vuole Creare rischi e pericoli I suoi giocatori Probabilmente Non potremo farle Comunque In negozio Ma Oh Regà Speriamo Dai Speriamo che passi in fretta E si possa giocare Quindi Questo è in breve Il recap Del launch party Di ieri Ringrazio tutti quanti Che mi hanno scritto In streaming Penso di voler Streammare Ogni giovedì La sera Alle 9 Penso di Streammare Anche questo sabato Pomeriggio La Fanta Pro League Inizio alle 2 Io partecerò però Al main event E grazie a tutti Di essere stati qua con me Quindi ciao Iscrivetevi al canale Mettete like Undividete Iscrivetevi Eccetera eccetera Quindi ciao 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 Ciao